buongiorno mondo oggi ci troviamo in val fiscalina guardate che giornata siamo in compagnia di emanuele ivan simone giorno e andrea lui lo conoscete già probabilmente anche lui al canale orme montane ve lo lascio in descrizione bene la nostra camminata inizia qui siamo al parcheggio a pagamento qui nella val fiscalina sono alla tariffa odierna 8 euro il giornaliero iniziamo la nostra camminata su strada forestale inizialmente lungo le tracce dell'alta via numero 5 iniziamo a ricalcare il fondo valle come potete vedere c'è un po di ghiaccio è abbastanza fresco e i nostri eroi partono quasi tutti senza guanti ma io no l'inizio di questa bellissima passeggiata è su strada forestale quindi adatto a chiunque fino a qui anche a noi anche a noi continuiamo a seguire le indicazioni verso il rifugio locatelli siamo arrivati al rifugio a fondo valle sempre strada finalmente un po di sole che cominciava a essere freschetto bene siamo scaldati un po dai adesso c'è anche il sole siamo arrivati al bivio che domani andremo a ritrovare tornando seguiamo le indicazioni per il rifugio locatelli c'è una bellissima vista qui davanti a noi verso il paterno noi domani ci gireremo attorno in teoria passiamo per di là in pratica lo scopriremo sentiero favoloso davvero stupendo rende tutto molto rilassante e credevole siamo a 2100 guardate che bella panchina questa qua con vista si vede il sentiero che abbiamo percorso in parte laggiù il fondo valle siamo ormai arrivati quasi in quota quindi bene è un po fresca la rietta però c'è un bel paesaggio davvero molto bello si vede il rifugio locatelli metà molto gettonata anche fuori stagione con il rifugio chiuso ovviamente il sentiero permette a un po tutti di salire giornata davvero bella intravediamo anche le tre cime ma ora andiamoci sotto che è meglio ma ora andiamoci sotto che c'è un po' di salire oggi pausa con vista d'eccezione guardate che bella questa panchina naturale la vista d'eccezione è questa comunque non vi preoccupate volevo far vedere la nostra la nostra area bene dopo questa breve pausa con vista andiamo verso il langham ora faremo il giro classico delle tre cime quindi passeremo qua sotto inizialmente facciamo un po' di discesa recuperando poi la quota verso l'auronzo che è il giro classico delle tre cime dall'altra parte ma questo già l'avete visto in uno dei precedenti video andiamoci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cioè a quella forcella che da lì in poi non è più parco e quindi si potrebbe anche volare col drone. E non solo col drone. Vedremo. E siamo in terra allo strano. Siamo tornati in Veneto. Oggi la tenda la andiamo a mettere lì. Andiamo un po' a vedere se è così bello quel punto come sembra. Non c'è un sentiero vero e proprio ma il versante non è poi così ripido. In qualche modo si riesce ad andare giù. Bene siamo arrivati al nostro punto a tenda per oggi che sarà questo. con vista sulla cima e lì avanti abbiamo il rifugio Auronzo. Lì si stanno sistemando anche loro. Uno bel pianoro e direi che ci siamo. Lì si stanno sistemando anche loro. Lì si stanno sistemando anche loro. Qui abbiamo il boscaiolo che è qui proprio l'ultimo alberello sfigato. Qui sotto c'è una sega perché è lì infatti. Eccola qua. E niente. Eccola qua. 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 Eccola qua.